Denti bianchi in pochi minuti? La soluzione si chiama Illumina, il primo make-up dentale sul mercato. Carica il bite fluorescente sotto qualunque sorgente luminosa. Metti il gel e lascialo agire 15 minuti. I risultati ti sorprenderanno. Illumina, il segreto di bellezza per i tuoi denti. In farmacia. 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 Grazie a tutti.